Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi di un caso che onestamente mi ha stupita in alcuni momenti, ma capirete che cosa intendo. Iniziamo immediatamente con la storia. Ci troviamo ad Holladay, una cittadina molto vicina a Salt Lake City, nello Utah. La protagonista di questo caso è una bellissima ragazza di nome Tony Bird. È solare, simpatica, spigliata, divertente, socievole. Nasce il 17 luglio del 1993 a Salt Lake City, nello Utah da Casey Bird e da Dana Marie Anderson. Tony è una ragazza molto sensibile, è sempre pronta ad aiutare gli altri. Ecco perché ha davvero molti amici, tutti la adorano, anche se Tony si trova meglio con i maschi. E ce ne sono molti che le gironzolano attorno, perché è una gran bella ragazza. È molto ambiziosa, ama cantare e dà una bellissima voce. E sa, ne è sicura, che prima o poi sarebbe diventata famosa. Qualcuno l'avrebbe notata prima o poi. Ma c'è dell'altro, perché Tony viene soprannominata dai suoi amici Miss Social Media. Non fa che postare foto e video su Facebook e praticamente ha il cellulare in mano per tutto il giorno. La ragazza ama postare selfie, ma ama anche condividere i momenti felici che passa con i suoi amici. In pratica, Tony aggiorna il suo profilo quotidianamente. Arriviamo al giugno del 2010. Tony ha 17 anni. Col tempo si è resa conto che ama frequentare ragazzi un po' più grandi di lei. Perché può farci delle discussioni costruttive, che vadano al di là dei meri pettegolezzi tra liceali. Che peraltro sopporta anche ben poco. Tony con questi amici ovviamente inizia a fare le sue esperienze un po' ribelline. Ogni tanto beve, fa qualche stupidata, ma soprattutto inizia a fumare e non sigarette. E in effetti un giorno Tony viene beccata mentre in macchina con dei suoi amici a fumacchiare dell'erba, non quella del giardino. Insomma, mentre Tony è lì che sta fumando tranquillamente, gli si palesa davanti una pattuglia della polizia. L'ufficiale della polizia fa allontanare Tony e i suoi amici dal veicolo, per poi perquisirlo. L'ufficiale della polizia ci mette ben poco a trovare una bustina piena di sostanza e un bong. Tutti gli amici di Tony hanno già dei precedenti per possesso di sostanze. Quindi potrebbero ottenere una condanna molto dura, ma soprattutto sono tutti maggiorenni. Ecco perché ad assumersi la colpa di tutto è proprio Tony. Dice al poliziotto letteralmente queste parole. Non è colpa dei miei amici, loro non c'entrano niente, quella è tutta roba mia. La ragazza quindi viene accusata di possesso di sostanze. E viene condannata a 90 giorni di reclusione da scontare nel riformatorio di Salt Lake City. Tony è molto spaventata da questo nuovo ambiente, fino a quando non incontra Victoria Mendoza. Una ragazza che, ahimè, le cambierà la vita per sempre. Quando le due ragazze si conoscono, Tony è molto fragile. È spaventata, non conosce nessuno, mentre Victoria è abituata a quell'ambiente. Infatti non è neanche la prima volta che viene arrestata. In questo caso Victoria è stata condannata a sei mesi di riformatorio per comportamento antisociale. È una ragazza violenta. Infatti l'hanno arrestata a seguito di una delle tante risse che ha creato lei stessa. Victoria nasce il 2 ottobre del 1992. Ma, come vi ho detto, ha già avuto parecchi problemi con la legge. A causa del suo carattere violento e irrascibile. E a causa della sua personalità, che per l'appunto è definita antisociale. Dovete sapere che Victoria ha un passato a dir poco turbolento. Suo padre si suicida quando lei ha solo 10 anni. E da questo evento, la ragazza non è più la stessa. Scappa spesso di casa, inizia a frequentare persone poco raccomandabili. Ma, non ha un posto dove andare. Quindi, se ne sta, sì, in giro per un po', però poi alla fine torna sempre a casa. Dobbiamo ricordarci che Victoria in questo momento ha solo 10 anni. È una bambina. E purtroppo non ha nessuno che le dia un freno. Non ha nessuno che la tenga d'occhio. Neanche sua madre sa cosa faccia, dove vada e chi frequenti. Insomma, non c'è nessuno che si preoccupi di lei. Sia chiaro, la madre di Victoria non si comporta così con lei perché è una pessima madre. Ma perché deve riuscire a portare a casa i soldi per mantenere tutta la baracca. È vero, la madre di Victoria è poco attenta, poco presente. Quando torna dal lavoro è sempre stanchissima. E, purtroppo, non dà molto peso a ciò che fa sua figlia. Se scappa di casa qualche giorno non si preoccupa perché sa che sarebbe tornata per dormire e per mangiare. Nel contesto del riformatorio, Victoria protegge Tony, la fa sentire al sicuro. Passa un mese e purtroppo Victoria riceve una notizia terribile. Sua madre è malata, ha un cancro al seno. E, ahimè, al posto di migliorare sta peggiorando sempre di più. Nonostante la madre di Victoria non sia mai stata poi così presente nella vita di sua figlia, è l'unica e l'ultima persona in vita che le vuole bene. Anche se è molto arrabbiata per le sue continue condanne. E, infatti, sono anni che Victoria entra ed esce dai riformatori. Prima per consumo di sostanza, poi per ubriachezza molesta, poi per rissa. Solo con l'ultima condanna a Victoria viene finalmente diagnosticata una personalità antisociale. Prima la vedevano solo come una scapestrata. Ma che cos'è esattamente il disturbo antisociale della personalità? Ebbene, le persone con disturbo antisociale della personalità commettono atti illeciti, tendenti allo sfruttamento e sconsiderati solo per profitto personale. Spesso le persone con tale disturbo tendono a giustificare o a razionalizzare i loro comportamenti assai scorretti. Tendono inoltre a colpevolizzare la vittima, dicendole di essere sciocca o incapace. Dunque, Victoria è un soggetto alquanto problematico. Ma andiamo con ordine. Tony è molto dispiaciuta per la situazione che sta vivendo Victoria. Quindi le sta molto vicino, cerca di farla sorridere, di supportarla. Cerca di non farle pensare alla sua vita al di fuori del riformatorio, che è un vero disastro. Le due ragazze, inoltre, amano particolarmente la musica. Victoria è solita a scrivere canzoni, ma non ama particolarmente cantare. Tony, invece, adora cantare. È così che le due ragazze iniziano ad avvicinarsi sempre di più. Victoria scrive molti testi e Tony è sempre lì, pronta a cantare le sue canzoni. Inoltre, Victoria, in un certo senso, si sente libera di parlare del suo passato burrascoso con Tony. Contemporaneamente, Tony si sente meno sola e impaurita con Victoria al suo fianco. Ad un certo punto, però, le due ragazze si rendono conto che la loro non è più solo un'amicizia. Passano tutto il tempo che hanno a disposizione assieme. Il loro legame diventa ogni giorno più forte. Insomma, Victoria e Tony si stanno innamorando perdutamente l'una dell'altra. La madre di Tony, Dana, va spesso al riformatorio a trovare sua figlia. Gli chiede se va tutto bene, se mangia abbastanza, se c'è qualcuno che la importuna. Ed è qui, a questo punto, che Tony prende la palla al balzo. Dice sua madre che in realtà non c'è nessuna persona che la importuna perché, a fianco, ha una ragazza davvero speciale. È così che Victoria e Dana, la madre di Tony, si conoscono. Passano 60 giorni. È l'agosto del 2010. Quando Tony esce dal riformatorio con la promessa di tornare a prendere Victoria al suo rilascio a settembre. Prima che Tony esca dal riformatorio, ovviamente, saluta Victoria, che le dà un biglietto, dicendole però di leggerlo solo una volta uscita dal riformatorio. Tony è convinta che su quel biglietto ci siano scritte delle cose romantiche per lei, insomma. Ma quando lo apre, legge. Se andrà a letto con qualcun altro, dovrò ucciderti. Non scherzo. A mio parere è proprio questo il momento in cui iniziano ad esserci dei sentori di una relazione tossica che, ahimè, si fonda sulla gelosia morbosa e sull'ossessione. Tony, ovviamente, a settembre va davvero a riprendere Victoria al riformatorio. Casey, il padre di Tony, dice che appena ha visto Victoria, ha pensato che fosse esattamente l'opposto della persona che si immaginava accanto a Tony. Nonostante ciò, Casey mette da parte le sue idee e lascia che Tony e Victoria si vivino la loro storia come è giusto che sia. Victoria, avendo una situazione difficile in casa con la madre malata, viene ospitata dai genitori di Tony immediatamente. Inoltre, la ragazza fa conoscere a Victoria anche il gruppo dei suoi amici. Anche loro la trovano diversa da Tony, ma non si fanno alcun problema e l'accolgono ben volentieri nella loro cerchia. Ben presto, dunque, iniziano ad uscire tutti insieme e il profilo Facebook di entrambe le ragazze inizia a riempirsi di selfie in cui Victoria e Tony appaiono follemente innamorate. Ma si sa che sui social si tende sempre a mostrare la parte migliore della propria vita. Nessuno sa come sia in realtà la relazione tra Tony e Victoria, tranne gli amici di Tony, che ovviamente la frequentano, e sanno benissimo che la loro relazione non è affatto perfetta. Anzi, è proprio l'opposto. Victoria inizia a mostrare chiari segni di gelosia per la vita sociale di Tony. Come vi ho già detto, ha molti amici e si trova anche molto bene con i ragazzi, con i suoi amici maschi. A Victoria non va assolutamente bene che Tony esca con i suoi amici quando le va, divertendosi pure. No, Tony deve stare sempre con lei. Devono passare tutto il tempo che hanno a disposizione assieme. Arriviamo a novembre 2010, quando per Victoria, ahimè, arriva un'altra batosta. Sua madre perde la vita a causa del cancro. A questo punto Victoria si sente solo al mondo. Nella sua vita non c'è più nessuno che tenga lei, a parte Tony. La famiglia di Tony, appena prende la notizia, invita immediatamente Victoria a stare da loro. Li chiedono proprio di trasferirsi definitivamente a casa loro. E, col passare dei mesi, i genitori di Tony iniziano a trattare Victoria come se fosse loro figlia, come se fosse parte della famiglia. Li aiutano anche a trovare un lavoro. Insomma, sono determinati a far vivere a Victoria una vita serena. A questo punto Tony e Victoria sono felici, vivono assieme, quindi passano davvero tutto il tempo che hanno a disposizione a stretto contatto. Ora, che abitano stabilmente sotto lo stesso tetto, possono sempre uscire insieme. Anche quando Tony esce con i suoi amici, Victoria è sempre presente ed è anche sempre pronta a tenerla d'occhio. Ma perché Victoria ha questo bisogno così estremo di controllare Tony? Ebbene perché Tony è una gran bella ragazza. Ha i capelli biondi, ha gli occhi chiari, ma soprattutto in passato è stata con dei ragazzi. Ed è così che Victoria inizia ad avere paura. E se Tony incontrasse un bel ragazzo, Victoria ha il terrore di rimanere da sola. Perché se Tony la lasciasse, a Victoria non rimarrebbe assolutamente nulla. È così che Victoria inizia a controllare sempre di più Tony. Lei frequenta il Salt Lake Community College. Di conseguenza, è ovvio che non sia sempre a casa. Così come Victoria, che ora ha un lavoro e deve essere precisa e puntuale. Non può permettersi di perderlo, quel lavoro, visto che gliel'hanno procurato proprio i genitori di Tony. Poi, ecco che arriva un altro problema. Tony è molto attiva sui social, specialmente su Facebook, posta molte foto. E puntualmente riceve dei commenti da parte di ragazzi che le fanno i complimenti. Tutti le dicono che è una gran bella ragazza e che Victoria è fortunata ad averla a fianco. Victoria a questo punto diventa gelosa a livelli davvero allarmanti. Non sopporta che dei ragazzi commentino le foto e i post di Tony. Victoria dunque chiede a Tony di eliminare tutti gli amici maschi che ha come amici su Facebook. Quest'ultimo ovviamente non lo fa. Tra i suoi contatti ci sono molti amici che non vede spesso ma che sente più che volentieri. Non è disposta a fare una cosa del genere per la gelosia insensata di Victoria. Tutto ciò non ha alcun senso. Più di una volta Tony becca Victoria a curiosare sul suo computer e sul suo telefono. In pratica Victoria a posto di aggiornare il suo profilo Facebook controlla tutti i messaggi che Tony riceve sia su Facebook che sul cellulare. Quando Tony si rende conto della cosa ovviamente riprende Victoria come ha osato fare una cosa del genere. Ora arriva anche a spiarne i messaggi che riceve sui social e sul cellulare. Non ci siamo proprio qui eh. Quando Tony affronta Victoria per questa situazione quest'ultimo si arrabbia da morire. Victoria inizia a prendere a parolacci Tony e l'accusa di nasconderle qualcosa. Forse ha qualche relazione segreta con uno studente del Salt Lake Community College. Tony a questo punto perde la pazienza e inizia ad alzare la voce. Urla in faccia a Victoria e le dice di non permettersi mai più di fare una cosa del genere, di controllarla. Altrimenti la strada per uscire da casa sua sarebbe stata lunga e larga. È a questo punto che Victoria entra ancora di più nel panico. Se Tony l'avesse lasciata sul serio se ne sarebbe dovuta davvero andare. Ma Victoria non ha una casa in cui stare. Quindi rimarrebbe davvero totalmente da sola senza neanche un letto su cui dormire. Ovviamente Tony ha urlato in faccia queste cose a Victoria perché era incredibilmente arrabbiata. Non perché la volesse davvero cacciare di casa. Ma Victoria non lo capisce e a questo punto le litigate diventano sempre più pesanti. Non fanno altro che peggiorare. E Victoria diventa sempre più gelosa. Tony cambia password al suo profilo Facebook almeno sette volte. E tutte le volte Victoria scopre quella password e quindi accede al profilo di Tony per farsi i cavolacci suoi. Cerca ossessivamente qualche indizio che possa portarla a pensare che Tony la tradisca. Indizio che per inciso non trova mai. Eppure continua a spiarla. I messaggi che Tony riceve sui social per Victoria stanno diventando un'ossessione. Ormai i litigi tra le due diventano sempre più violenti. Victoria mette le mani addosso a Tony. La spinge. Qui vorrei porre l'attenzione su un problema a mio parere alquanto importante. Il padre di Tony, Casey, è spesso a lavoro. Ma la madre di Tony, Dana, fa la casalinga. Questo vuol dire che è sempre stata in casa. Lei stessa sostiene di essere dovuta intervenire più di una volta perché sentiva in continuazione le urla delle due ragazze che andavano avanti per ore ed ore. Più volte ha dovuto anche dividerle perché si stavano mettendo le mani addosso, si tiravano i capelli, si spingevano. O meglio, Victoria era sempre la prima che alzava le mani. Tony chiaramente cercava semplicemente di proteggersi. Niente di più. Ora, io capisco che la situazione di Victoria sia davvero difficile. Lo capisco perfettamente. Ma se ti rendi conto che la ragazza che hai accolto in casa fa del male a tua figlia, non c'è compassione che tenga a mio parere. Victoria avrebbe dovuto essere cacciata di casa a calci nel sedere perché era un pericolo per Tony. Sono rimasta letteralmente senza parole quando ho scoperto che tutti i litigi, nessuno escluso, avvenivano all'interno delle mura domestiche. Insomma, se le due ragazze avessero avuto costantemente delle discussioni fuori casa, per poi apparire perfette davanti ai genitori di Tony, avrei anche potuto capire. Madonna ogni giorno vedeva quelle due ragazze scannarsi senza alcun motivo logico. E non faceva nulla per arginare la situazione. Nulla. Non riprendeva mai Victoria. Non le aveva mai detto di stare un attimino più calmina e di tenere le sue manine sante a posto. Però, per lei, era come se fosse una figlia. Per me qui c'è qualcosa che non va. Qualcosa che non mi torna proprio. So benissimo che non si nasce genitori ed è umano fare degli sbagli. Attenzione, eh. Ma in questo caso mi è parso di vedere un totale disinteresse da parte della madre di Tony. Arriva un giorno in cui Tony non torna subito a casa dopo aver seguito le lezioni al college. Bensì esce con i suoi amici e come al solito posta varie foto su Facebook. Quando Victoria vede dove sia Tony si infuria da morire. Di conseguenza esce e scompare nel nulla per due giorni. Non si fa più sentire, non si fa più vedere. Ovviamente Tony è molto preoccupata per Victoria, non sa dove sia e teme che le sia successo qualcosa di grave. Dunque le scrive messaggi in continuazione. Victoria ad un certo punto si igiene di rispondere a Tony e le dice senza neanche girarci troppo attorno di essere andata a letto con una sua amica di nome Kim. Tony è distrutta. Non solo Victoria ha rovinato il rapporto che aveva con la sua amica, ma l'ha anche tradita. Quando Tony le chiede perché mi hai fatto questo, Victoria risponde perché voglio che tu sia gelosa. Tony è furiosa. La prima cosa che fa è correre su Facebook e cambiare la sua situazione sentimentale da fidanzata a single. E Victoria, indovinate, anche in questo caso va nel panico più totale. Insomma Tony non può abbandonarla così. Lei ha solo fatto una stupidata a causa della sua gelosia irrazionale. Quindi decide di chiederle scusa. Non lo fa però di persona. Decide di registrare un video su YouTube e di chiedere scusa pubblicamente a Tony. Dunque quest'ultima la perdona. Siamo arrivati al punto in cui Victoria ha il controllo totale su Tony. Le scuse che Victoria decide di rivolgere alla ragazza non sono assolutamente casuali. Victoria sceglie di fare questo gesto plateale per manipolare Tony. Sa che con quel video l'avrebbe fatta crollare. Sa che con quelle scuse Tony sarebbe tornata con lei anche solo per compassione. E questa credo sia una delle cose peggiori in una relazione. Come puoi convincere qualcuno a non mollarti facendo leva sulla compassione? Le due dunque si rimettono assieme. E ben presto rincominciano ad apparire altre tante foto su Facebook in cui stanno assieme. Si abbracciano, si baciano. Di nuovo sembra siano follemente innamorate. In realtà come avrete immaginato il rapporto tra le due non è mai stabile. Mai. E a questo punto oltre ai litigi iniziano anche le botte. Quelle serie. Una sera Tony riceve un messaggio da un suo amico che la invita a bere qualcosa in un locale. In quanto non si vedono da parecchio tempo. Perché in effetti Tony si è allontanata dai suoi amici proprio per la relazione che ha con Victoria. Le discussioni tra le due hanno sempre la stessa dinamica. Victoria accusa Tony di voler andare a letto con i ragazzi che le scrivono su Facebook. Tony ovviamente si difende e non tradirebbe mai Victoria. Peraltro Tony ricorda a Victoria spesso e volentieri che quella di aver tradito non è stata amica lei. Questa affermazione fa infuriare Victoria. Sembra non voglia accettare la realtà dei fatti. Ma è così. È vero. L'ha tradita. E questo è un fatto che non può essere messo in discussione. In questo caso dovete sapere che le ragazze non sono in casa ma in un parco lì vicino. E Victoria è così tanto infuriata che arriva a tirare un pugno in faccia a Tony. Tony ci rimane malissimo. Ha un sacco di sangue che le esce dalla bocca. Inoltre sente anche di aver qualcosa in bocca. La sputa e si rende conto di aver perso un dente. Un incisivo per la precisione. Victoria ovviamente si rende immediatamente conto della gravità della situazione. Ha davvero fatto del male a Tony quindi prova a chiederle scusa in ogni modo possibile e immaginabile. Tony a questo punto dice solo Victoria. Victoria ok va tutto bene ma io voglio tornare a casa adesso. La ragazza dunque rientra in casa seguita da Victoria. E prova anche a far finta di nulla. Ma sua madre non può non notare che le manca un dente che è piena di sangue in faccia. E Dana la madre di Tony capisce immediatamente cosa si è successo. Ordina quindi a Victoria di andare a prendere una maglia pulita per sua figlia. E mentre Victoria è in camera Dana afferra il telefono. È intenzionata a chiamare la polizia. Tony però interviene immediatamente e la blocca. La prega di non chiamare la polizia perché oramai Victoria è maggiorenne. E ha anche dei precedenti quindi rischierebbe di finire in carcere per molto tempo. La madre di Tony al posto di guardare sua figlia e dirgli Tesoro io capisco che tu sia innamorata ma guarda come ti ha ridotta. Se viene condannata e finisce in prigione se lo merita. Perché non può trattarti in questo modo? Da retta a Tony e decide di non alertare le forze dell'ordine. Quando rincasa a Casey il padre di Tony chiede chiaramente spiegazioni. E Victoria racconta tutta un'altra storia. Peccato che lì con loro ci sia anche Dana, la madre di Tony. Che invece sa tutta la verità su questa questione. Victoria dice che in realtà Taunio è finita in una rissa. Delle ragazze hanno iniziato a darle fastidio. Poi le hanno tirato un pugno in faccia e sono scappate. Lei purtroppo non è riuscita a proteggere Tony quindi si sente in colpa. La madre di Tony al posto di intervenire per spiegare come siano andate le cose per davvero. Paspallucce dice al marito eh sai sono capitate nel luogo sbagliato al momento sbagliato. Ragazzi io ve lo dico a questo punto ho già entrambe le mani nei capelli tipo così. E pensavo ma santo cielo ma davvero? Ripeto eh io cerco di comprendere tutto. Ma quando si tratta dell'incolumità di tua figlia fai di tutto per tenerla al sicuro. Fai il possibile per non farle correre rischi. E in questo caso il rischio ce l'avevano in casa. E Dana la madre di Tony lo sapeva bene perché a differenza di Casey assisteva alle litigate delle ragazze. Sapeva quanto fosse insana quella relazione. Lo sapeva benissimo. Victoria è sicuramente una ragazza con molti problemi. Non è cresciuta in un ambiente sano. Bastano i suoi comportamenti a renderlo evidente. Ma è anche una manipolatrice. Racconta bugie. Si inventa storie credibili. Col fine di convincere gli altri a fare ciò che vuole lei. Le ragazze nonostante tutto continuano ad apparire su Facebook come la coppia perfetta. Peccato che ormai molti amici di Tony conoscono la verità. Sanno che Victoria ha colpito la loro amica con un pugno facendole saltare un incisivo senza alcun motivo. Tony non ha mai fatto niente per scatenare l'ira di Victoria. E quando Tony dà un'altra possibilità a Victoria è fiduciosa. Spera che la ragazza possa iniziare a fidarsi di lei. Perché comunque non le fa piacere questa cosa. È brutto in una relazione quando uno dei due non si fida ed è così tanto ossessivo. Se non ti fidi perché stai con me? Ma arriviamo al 17 ottobre del 2014. E questa è una data molto molto importante. E questo vuol dire che l'assurda relazione va avanti da ben 5 anni. Continuano a vivere assieme e ormai Dana si è anche abituata a sentirle litigare. Niente interviene più. In questo momento Tony ha 21 anni. Mentre Victoria ne ha 22. E cosa succede in questa giornata del 17 ottobre 2014? Ebbene la migliore amica di Tony, ossia Lacey, invita sia Tony che Victoria a uscire. Per andare a bere qualcosa insieme in un bar. Ovviamente al bar c'è tutta la compagna di Tony. E finalmente la ragazza si sente a suo agio. Come ovvio che sia Tony ride, scherza. È felice. È circondata da amici che le vogliono bene. Ed è esattamente questo che a Victoria non va bene. Anzi questa situazione la logora. Lei non è a suo agio. Non riesce a ridere e a scherzare come Tony. Nonostante i suoi amici siano tutto sommato tranquilli e molto carini con lei. Non l'hanno mai trattata male. Di conseguenza Victoria più vede Tony sorridente e a suo agio più si arrabbia. Tony non deve ridere con nessuno se non con lei. Insomma, solo lei può renderla felice. Inoltre, come possono queste persone farla ridere con queste battute così stupide? Insomma, è chiaro, Victoria durante questa serata si nervosisce. Però non lo fa nuotare. Va in bagno e sparisce per mezz'oretta. Quando esce dal bagno, se ne sta un po' indisparte ad osservare Tony, che è sempre lì a ridere e a scherzare con i suoi amici. Insomma, Tony neanche si preoccupa del perché Victoria non stia tornando al tavolo. Victoria dunque, verso mezzanotte, torna a sedersi al tavolo e dice a Tony che se ne devono andare perché lei il giorno dopo deve lavorare e si deve svegliare presto. Tony dunque raccompagna anche la sua amica Lessie a casa e lei si sostiene che non ha notato niente di strano. Insomma, le due stavano battibeccando come al solito. Lei è scesa dalla macchina, ha dato la buonanotte a Tony ed è entrata in casa sua. Questa è in me l'ultima volta che Lessie vede la sua amica Tony in vita. Tornando verso casa, Victoria e Tony riprendono a litigare, ma non subito. Ormai Tony sembra sempre più distante, evita qualsiasi tipo di contatto. Se Victoria le sfiora la mano, lei si ritrae e rimane in silenzio. Victoria quindi a questo punto va di nuovo in panico. Sente di nuovo che sta perdendo Tony. Col tempo Tony effettivamente inizia ad essere più forte, più indipendente. Victoria deve lavorare, quindi non è lì pronta a controllarla in ogni seconda della sua giornata. Dunque Tony riprende ad avere un minimo di vita sociale. Riprende dunque i contatti con tutti i suoi amici più stretti. E a Victoria di nuovo questa cosa non va assolutamente a genio. Anzi, non le va affatto bene. Sta perdendo il controllo che esercita su Tony e questo non riesce a sopportarlo. Ha bisogno di averla sotto controllo. Ha bisogno di sapere sempre dove sia e cosa stia facendo. Ma soprattutto Victoria ha bisogno di sapere con chi sia Tony. E in effetti ultimamente Tony ha iniziato a farsi un minimo furba. Evitando di postare foto sui social delle uscite con i suoi amici. Tiene Victoria all'oscuro di tutto. Ma è chiaro che il suo atteggiamento stia mutando lentamente nei confronti della ragazza. E perché? Perché i suoi amici sono settimane che provano a farla ragionare. Le dicono che Victoria non è la ragazza che fa per lei. E non perché sia una ragazza. Il problema non è di certo il suo orientamento sessuale. Il problema qui è un altro. Victoria le fa del male. E lo fa in continuazione. La controlla, la picchia, le ha tirato un pugno in faccia facendole saltare un dente. E inoltre ha cercato anche di allontanarla da loro in ogni modo possibile. Torniamo dunque a quel 17 ottobre 2014. Durante il viaggio verso casa, dopo aver lasciato Lacy, è Victoria a rompere il silenzio. Dicendo, ho scoperto tutto. So che mi tradisci e che mi lascerai per un ragazzo. Tony, a questo punto, sentendo queste parole, di nuovo, perde definitivamente la pazienza. Non ce la fa più. Sono anni che questa storia va avanti. Quindi accosta la macchina, pronta ad affrontare una discussione con Victoria. Una discussione che spera di non dover mai più affrontare. Tony quindi guarda Victoria e le dice, va bene Victoria, adesso basta. Io non ce la faccio più. Ti rendi conto che mi stai portando all'esasperazione? Guardati, guardati allo specchio una volta tanto. Sei tu che mi hai tradita. Io non ho mai osato farlo. Victoria si infuria e urla contro Tony. Perché tiri fuori sempre questa storia? È di te ora che si sta parlando. Tony ribatte. Adesso basta, accidenti, è finita. E la parola fine a questa storia ce la metto io. Mi hai fatto uscire di testa in questi anni. È a questo punto che Victoria perde davvero la testa. Urla solo a Tony. Stai zitta. Taci. Poi inizia a spingerla, a tirarle i capelli. E infine estrae un coltello con cui la colpisce per 46 volte. Tony ha ferite alla testa, al viso, sugli avrambracci, al collo, al torace e all'orecchio. Victoria, dopo aver commesso questo terribile crimine, sposta il corpo di Tony sul lato passeggero e guida fino al parcheggio di una chiesa vicina. Ma non chiama 911, piuttosto chiama un suo amico e gli rivela ciò che ha fatto. Questo amico di Victoria non la sente da un bel po', quindi è convinto che quella chiamata sia uno scherzo. Però chiarisce ogni dubbio dicendogli, ascolta, no, non sto scherzando. Non so che altro chiamare. Ho commesso un omicidio. Ti sto dicendo che ho ucciso qualcuno. La telefonata procede esattamente in questo modo, purtroppo non sono riuscita a trovarla intera. Perché è chiaro che questa chiamata non specifichi dove si trovi Victoria. Questa è dunque la parte che sono riuscita a trovare e a comprendere. L'amico di Victoria dice Cosa stai... cosa stai dicendo? Non stai mentendo? Hai davvero ucciso qualcuno? Victoria risponde Sì, in realtà ho ucciso qualcuno e... Oddio, sono così spaventata, non ha idea di quanto abbia paura. L'amico di Victoria chiede Victoria? Dov'è Tony? Victoria risponde È morta. L'amico esclama a questo punto Oh cazzo, Victoria, ma che cosa hai combinato? Victoria ribatte Sono impazzita, non volevo farlo e ho capito troppo tardi di averla uccisa. L'amico chiede L'hai accoltellata? Victoria risponde Sì, l'ho accoltellata. L'amico di nuovo esclama Cazzo, Victoria, ma davvero, che cosa ti è saltato in mente? Victoria a questo punto continua dicendo Solo... ascoltami L'ho fatto perché era lei che mi stava facendo a pezzi Tu non capisci Ed io... Devo andare Devo andare L'amico ribatte Andare dove? Victoria, dove sei? Portale in un fottuto ospedale Cosa stai aspettando? Victoria risponde Amico, è già morta Non c'è più niente da fare È in effetti questo amico di Victoria Che nel corso di questa chiamata Riesce a capire dove si trova la ragazza Allertando di conseguenza le forze dell'ordine Quando le forze dell'ordine arrivano al parcheggio della chiesa Trovano Victoria seduta in macchina I suoi vestiti sono ricoperti di sangue E il corpo di Tony Giace a fianco a lei Sul sedile del lato passeggero Victoria chiaramente viene arrestata sul posto E condotta in centrale per essere interrogata Anche se bene o male la polizia è già al corrente di ciò che è successo Victoria ha raccontato tutto al suo amico al telefono La ragazza però è confusa Perché ricorda di aver raccoltellato Tony Solo una mancetta di volte Dunque è convinta che sia ancora viva Il detective che la sta interrogando Le dice chiaramente che No, non è così Ha i ricordi alterati Oppure è sotto shock Perché Tony non è più in vita E l'ha uccisa lei Con 46 coltellate Intanto la mattina del 18 ottobre La migliore amica di Tony Lacey Contatta Dana E le dà la terribile notizia Non sa esattamente come siano andate le cose Ma teme che Victoria abbia fatto del mare a Tony Qualche ora dopo è la polizia a confermare la tragica notizia alla famiglia Tony è stata colpita più volte con un colterlo da Victoria All'inizio del processo durante l'udienza preliminare Victoria si dichiara non colpevole Minaccia di uccidersi Dice che non è corretto che lei sia in prigione Ci sono però molte prove che descrivono con estrema chiarezza La relazione tossica tra Tony e Victoria Ma soprattutto le reazioni violente di Victoria Victoria appare confusa Ma è necessario ricordare la chiamata che ha fatto subito dopo l'omicidio al suo amico Quella che insomma vi ho letto anche io E' chiaro Victoria era nel panico più totale Ma era ben conscia di ciò che aveva fatto Quindi Victoria è in grado di intendere e di volere Victoria viene ufficialmente accusata di omicidio di primo grado E sotto consiglio del suo avvocato si dichiara colpevole Il tribunale dice Non ho scuse per quello che ho fatto Questo è il motivo principale per cui mi sono dichiarata colpevole Non ho davvero niente da dire Sono io il mostro qui Victoria riceve una condanna da 16 anni all'ergastolo La domanda che mi punevo in continuazione mentre leggevo e studiavo questo caso E' la seguente Questo crimine poteva essere evitato? Ripeto perché non voglio essere fraintesa Nessuno insegna ai genitori come fare i genitori Lo imparano da soli e talvolta sbagliano anche i genitori Non sono esseri perfetti E' chiaro Ma qui si sta parlando di uno sbaglio enorme durato 4 anni Credo che questa tragedia si sarebbe potuta tranquillamente evitare Con un minimo di pugno di ferro Con questo intendo che Dana avrebbe dovuto raccontare a suo marito Casey la situazione Ne avrebbero dovuto discutere insieme E magari avrebbero anche dovuto parlare con Victoria Cosa che però non hanno mai fatto In questo caso mi è parso che Dana abbia preferito farsi da parte Forse pensava che sua figlia fosse abbastanza grande per gestire una relazione del genere Io non dimentico che Tony e Victoria si sono conosciute in un riformatorio e non al parco a giochi Dunque con una situazione del genere in casa che è sotto i tuoi occhi Come puoi non prendere provvedimenti Come puoi non intervenire Ho pensato anche che Dana non volesse deludere la figlia Ecco perché non ha chiamato le forze dell'ordine A volte il bene per un figlio lo sa individuare un genitore non il figlio stesso Questa è chiaramente una mia opinione E forse questa opinione voi la riterrete dura Forse la riterrete esagerata Ma vi giuro se fossi madre e vedessi una situazione del genere che accade in casa mia Metterei in riga chiunque osi solo sfiorare mio figlio o mia figlia Specialmente se l'ho accolto o l'ho accolta in casa senza chiedere nulla in cambio C'è inoltre un altro lato di questo caso a mio parere molto molto triste È vero Victoria non aveva un buon passato alle spalle Non era stata educata a dovere Ma aveva avuto una seconda possibilità Nonostante tutto i genitori di Tony le hanno aperto la porta di casa L'hanno accolta Le hanno preparato pranzi e cene Le hanno fatto trovare un lavoro E poi le hanno comprato dei bei vestiti nuovi Per farla andare a lavoro sempre ordinata e vestiti in modo adeguato Che che se ne dica Donna e Casey hanno accolto in casa una ragazza scapestrata Con problemi Dandole la possibilità di riscattarsi Di trovare la sua strada Di vivere serena Victoria si è ritrovata attorno persone che la trattavano come se fosse una di famiglia E ha ripagato queste persone Uccidendo loro la figlia Una ragazza piena di vitalità Di sogni, di speranze, di voglia di fare È davvero molto molto triste tutto ciò Non so come sia per voi E non ho la presunzione di saperlo Ma personalmente sono proprio i delitti che potevano essere evitati A scuotermi un pochino di più Detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video Spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro interesse Conoscevate questo caso? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti Sempre con educazione Per cortesia Detto questo vi mando Un bacione Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video Mi raccomando Fate i bravi E continuate a mangiare le verdure Che continuano a far bene Ciao ragazze Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi